Cerchiamo di capire perché i satelliti viaggiano a una velocità di 28.000 km orari. Immaginiamo di condurre un esperimento. Portiamo un individuo sulla cima di una montagna e lanciamolo orizzontalmente con una velocità V0. L'individuo percorrerà una traiettoria che lo porterà a cadere sulla superficie terrestre ad una distanza dalla montagna che chiamiamo gittata. La gittata è direttamente legata alla velocità con la quale l'individuo è stato lanciato. Maggiore è tale velocità, maggiore sarà la distanza che l'individuo percorrerà a terra. Ora proviamo ad immaginare, di osservare questo esperimento da lontano, quindi guardiamo tutto dallo spazio. Abbiamo la nostra terra con la sua superficie curva, la montagna è il nostro individuo che viene lanciato orizzontalmente. L'individuo seguirà quindi una traiettoria che lo porterà a cadere sulla superficie terrestre ad una distanza dalla montagna misurata lungo la superficie curva della terra. Se aumentiamo la velocità, raggiungeremo una distanza sulla superficie curva della terra maggiore. Tutte queste traiettorie hanno però una particolarità in comune. Esse ad un certo punto intersecano la superficie terrestre. Se però noi lanciamo l'individuo con una velocità iniziale sufficientemente elevata, riusciremo a seguire una traiettoria che non solo non interseca la terra, ma che dopo un giro intorno ad essa porterà l'individuo nuovamente nella sua posizione iniziale con la velocità iniziale che aveva. L'individuo in questo caso quindi è entrato in orbita. Ma qual è la velocità che l'individuo deve avere per poter entrare in orbita? Il valore dipende dalla forma dell'orbita e può essere in generale complicato calcolarlo. C'è però un caso particolare in cui, in maniera semplificata, riusciamo a trovare un'espressione per trovare la velocità che l'individuo deve avere per poter orbitare intorno alla terra. E mi riferisco al caso delle orbite circolari, che tra l'altro sono spesso utilizzate per i satelliti che orbitano intorno alla terra. Lasciamo per un attimo da parte il nostro satellite e proviamo ad eseguire un semplice esperimento. Abbiamo qui un nostro bicchiere con una pallina al suo interno. Supponiamo a questo punto di rovesciare il bicchiere. Ovviamente quello che accade è che l'accelerazione di gravità porta la nostra pallina a cadere verso la superficie terrestre. Se però ora, grazie a questo filo, riusciamo a dare alla pallina una sufficiente velocità trasversale, riusciamo a dotarla di un'accelerazione centrifuga che vince l'accelerazione di gravità e non fa cadere la pallina nonostante il nostro bicchiere sia rovesciato. Possiamo immaginare che qualcosa di simile accada anche per il nostro satellite. Quindi torniamo ad analizzare il satellite che orbita con un'orbita circolare intorno alla terra. Andiamo ad analizzare in particolare quali sono le forze che agiscono sul nostro satellite. Avremo innanzitutto la forza gravitazionale che imprime sul nostro satellite un'accelerazione gravitazionale diretta verso il centro della terra. Ma grazie al moto circolare sul satellite agirà anche un'accelerazione centrifuga diretta dalla parte opposta. Per far sì che il nostro satellite orbiti su un'orbita circolare, queste due accelerazioni devono bilanciarsi. Andando ad uguagliare le espressioni dell'accelerazione gravitazionale e dell'accelerazione centrifuga, otteniamo l'espressione della velocità che il nostro satellite deve avere per poter vincere l'azione gravitazionale e di conseguenza orbitare intorno alla terra con un'orbita circolare. Come vedete, la velocità dipende dal raggio della nostra orbita, quindi dalla quota alla quale stiamo orbitando. Se ad esempio consideriamo la Stazione Spaziale Internazionale che viaggia ad una quota pari a circa 350 km ed applichiamo questa formula, scopriamo che la Stazione Spaziale Internazionale, per poter orbitare intorno alla terra, deve avere proprio una velocità circa pari a 28.000 km orari.